Ciao tenorini e ben ritrovati a tutti voi qui nel mio studio da tenore informatico e oggi grande novità che riguarda il sistema di Microsoft e quindi Windows 11 come già per le versioni passate dalla versione 7 fino alla 10 quindi e quelle versioni light e ultra light ovviamente Windows 11 non poteva mancare questo tipo di appuntamento. Di fatto un programmatore che ha un canale su YouTube un sito dedicato su questo argomento che poi non mancherà nella descrizione l'inserimento di questi link e spiega tutto in modo dettagliato come avere l'ISO non ufficiale perché Microsoft non ha ufficializzato una cosa di questo tipo però si tratta di una versione di Windows 11 leggera light o ultra light se preferite così da poter scaricare legalmente perché è una coppia. Non pirata infatti dopo l'installazione va attivata con il codice seriale quindi dovete acquistare una licenza oppure utilizzare un attivatore. Di fatto possiamo scaricare la versione ISO tranquillamente e la cosa più interessante poter utilizzare il sistema Microsoft alleggerito su tutti quei computer datati. Che possono avere un'età dai 10 fino ai 20 anni ho già provato proprio in questo computer un po' vecchio così a vederlo sono 10 anni. Quindi appunto qui ho installato la versione che questo programmatore ha rilasciato nominato in codice Tini 11 quindi avete capito che dal nome di Windows 11 prende il nome di Tini 11. La versione ISO gratuita la possiamo scaricare ovviamente c'è anche il rovescio della medaglia perché se vogliamo utilizzare il sistema Microsoft alleggerito in questo caso sono state tolte delle cose per poterlo utilizzare su computer molto vecchi. Poi vi spiegherò quali di queste cose il programmatore ha tolto dalla ISO modificando dei parametri ma comunque si può utilizzare senza problemi su un qualsiasi computer datato. Allora non perdiamo tempo e andiamo a vedere il sito ufficiale scaricare finalmente anche per Windows 11 la versione light e ultra light. Andiamo! Sono qui davanti al mio computer vediamo il sito che si chiama archivi.org.dntdev trovate anche il suo canale YouTube dove appunto mette a disposizione tramite questo sito l'ISO da scaricare. Basta andare su show e whole files e scaricare così la versione ISO oppure quella che vi posso consigliare è la versione torrente che si scarica più veloce. Una volta che avete scaricato uno di questi link ISO o archivio torrente vi viene una cartella di questo tipo una volta che l'avete scaricata. All'interno della cartella troviamo l'ISO di un peso di 3 GB avviate Rufus nel mio sito quindi nel canale YouTube e da me trovate il video su come eseguire l'installazione del sistema operativo Microsoft su chiavetta USB. All'interno dobbiamo poi selezionare l'ISO si inserisce l'ISO poi se si tratta di un computer vecchio impostate MBR. In caso andate a installare la versione su un computer più recente dovete lasciare GPT per l'installazione Wi-Fi oppure per quella classica Legacy MBR. Dopodiché andate ad avviare per eseguire l'installazione su chiavetta USB. Quindi troviamo la versione Tini 11 installata sulla chiavetta ed è uguale a quella di Windows 11 ma solo più leggera. Le differenze sono rispetto alla versione ufficiale che con questa versione avete un sistema che occupa soltanto 8 GB di memoria di archivio e bastano soltanto 2 GB di RAM per eseguire l'installazione di questa ISO nominata Tini 11. Ok è arrivato il momento di andare a installare l'ISO direttamente sul computer portatile. Vado a installare finalmente l'ISO di Tini 11 su questo computer da tatto, inserisco la chiavetta USB nella porta apposita e finalmente possiamo partire all'installazione. Quindi avviate il computer, premete ripetutamente il tasto che riguarda il vostro computer, in questo caso ci sono dei miei video su come eseguire l'avvio da boot e anche come entrare nel BIOS a seconda della marca. Questo è un ASUS e quindi richiede l'avvio tramite il tasto ripetuto F2. Si va alla sezione boot e poi qui su priorità dovete selezionare la chiavetta esterna. Vado a spostare la chiavetta direttamente come prima posizione di avvio, premete F10 sulla tastiera, confermate con invio la scelta. A questo punto si riavvia il computer che vi permetterà l'installazione del sistema di Tini 11. Infatti si vede il logo di Windows 11, aspettate. Prima fase di installazione, purtroppo la versione ISO che è stata rilasciata da questo programmatore è solo in inglese, ma sicuramente si può installare il pacchetto nella versione in italiano. Quindi dovete dalla versione corrente, nel formato corrente, inserire la lingua in italiano. La tastiera deve essere in italiano, andate avanti. Accettate le condizioni e poi andate così a eliminare tutte le partizioni. Vi ricordo che questa procedura elimina tutti i file dalla memoria interna. Prima di fare questo sarebbe il caso di eseguire un backup dei dati. Successivamente, una volta che il disco non è allocato, si va avanti e si inizia finalmente con l'installazione. Dopo l'installazione possiamo così iniziare la configurazione con il paese Italia. Andiamo avanti. Quindi, il tipo di tastiera, io metto Italia, tastiera italiana. A differenza della versione ufficiale di Windows 11, non ci permetteva di ignorare la rete. Infatti c'era l'obbligo di inserire la rete per entrare col proprio account Microsoft, oppure registrarne uno. In questo caso è stato disabilitato l'account online, infatti la versione Tini 11 funziona solo in locale. Non si può mettere l'account online di Microsoft. Saltare il tipo di installazione online. Poi possiamo mettere il nostro nome. Si va avanti. Potete mettere una password, oppure saltare. Proseguiamo con la configurazione. Saltando tutte queste voci, mettendo no. Ed ecco qua, Tini 11 pronto all'utilizzo. Versione leggera. Ovviamente mancano delle cose, come ad esempio l'inserimento dell'account online Microsoft. E poi alcune applicazioni sono state rimosse. Poi andate sul sito per saperne di più. Ripeto che questa è una versione che utilizza 8 giga di dati di archivio rispetto ai 20 che richiede l'installazione di Windows 11 ufficiale. E poi RAM richiesta 2 gigabyte. La differenza è della versione di Windows 11 che ne richiede almeno 4 gigabyte. Anche in severità i requisiti mi pare dai 32 bit, 1 gigabyte e 64 bit e 2 gigabyte minimo richiesto. Una cosa importante che dovete sapere se avete l'intenzione di installare questa versione di Tini 11 è che non si possono fare tipi di aggiornamenti che riguardano gli aggiornamenti dell'antivirus Defender e ovviamente quegli aggiornamenti del sistema operativo. Mentre facendo delle prove sono riuscito a fare gli aggiornamenti che riguardano i driver di sistema. Quei driver che permettono il funzionamento delle periferiche. Per tutto il resto facendo dei test funziona abbastanza bene. Ma come ho già detto prima con delle mancanze rispetto alla versione ufficiale Microsoft. Bene ragazzi, che dire, scaricate, fate le vostre prove, fatemi sapere cosa ne pensate qui in basso nei commenti, poi sul sito ufficiale del programmatore trovate tutte le informazioni che vi servono. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un bel like al mio video e noi ci vediamo al prossimo video da Tenori Informatico. Alla prossima, ciao a tutti!